Ciao a tutti ragazzi sono Indio Rozza e bentornati sul canale Oggi ragazzi nuova topo recensione Siamo a venerdì numero 3530 Topolino incredibile perché tornano a doppia copertina ovviamente per le storie dei 100 anni Disney Ovviamente fatte sempre da Artibani ma lo scopriamo presto Chiaramente ragazzi siamo in agosto, tante novità A quest'oggi ho preso il topolino con le penne giusto perché non le avevano, mi piacevano Alla fine acquisto chiaramente a 8 euro ovviamente con i 350 del topolino Chiaramente sono 450 le penne ormai paghi praticamente il marchio, il gadget E comunque ovviamente era una cosa che volevo recuperare anche perché poi inizia l'estate con tanti gadget Ma state connessi perché ad agosto ci saranno dei gadget veramente imperdibili Per cui comprate i topolini ad agosto perché fidatevi che ne vale la pena Adesso ragazzi sigla e poi vediamo la topo recensione Eccoci qua ragazzi vedete questa copertina di freccero dove vediamo un topolino alle prese con le steppe della Mongolia Ovviamente per qualche solo avventure ai confini del mondo Ovviamente una tra virgolette serie che è presente da un po' con episodi dove vediamo il nostro topolino Viaggiare come reporter ai confini del mondo per andare a cercare informazioni In questo caso vedete c'è l'aquila protagonista e lui che indossa appunto gli abiti dei nomadi nelle steppe della Mongolia Ma andiamo ora a scoprire quelle che sono le storie che presentano anche i cento anni Disney Ovviamente ragazzi partiamo proprio con la prima storia qua appunto scritta da Francesco Vacca con i disegni di Vian Di Topolino, Giramondo, Orizzonti e Fitti, il primo episodio Vediamo il topolino che nelle prime due pagine è stato lasciato in queste steppe Che deve recarsi ad intervistare questi nomadi Finalmente ci arriva e fa conoscenza appunto con Zanabil Ovviamente e con la figlia che diciamo che avevano Bagida si chiama O Bagida vediamo Che ovviamente avevano fatto una scommessa se ci sarebbe arrivato tutto intero Ovviamente viene introdotto a quelle che sono le consuetudine di liberare le aquile Prima di spostarsi appunto per l'inverno Peraltro si presenta anche ovviamente quello che è un nomade in moto Ovviamente intanto fanno conoscenze di Zai e di quella che è l'Aquila Che è un esemplare che non è ancora libero ma che non vola Che è del figlio Ascat ovviamente che è uno dei pochi che studia all'università Quindi un po' meno nomade degli altri Topolino ovviamente deve analizzare quello che è il reportage su quello che è i nomadi Ovviamente dorme e passa notte da loro Se si racconta appunto che Zanabil e Ascat hanno anche un po' bisticciato Perché il papà ha qualche problema nella schiena Passa notte e il giorno dopo Topolino è addirittura invitato A testare quello che è il viaggio dei nomadi E quindi incominciano le prime marce Ovviamente devono recarsi in una steppa Intanto vediamo appunto Quelle che sono gli aspetti Montaggio, cavalcare Quindi Topolino diventa un vero e proprio nome Arrivati in quella che è la tappa Dove dovrebbe esserci la steppa Dove accamparsi Trovano che è stato costruito un villaggio Si creano ovviamente così il primo episodio Qualche pagina successiva Partiamo col secondo episodio Dove appunto i nostri vanno a parlare al villaggio Per capire quella che è quella questione È tutto all'apparenza regolare E quindi ovviamente i nostri devono cercare in qualche modo Di trovare un posto per potersi accampare Anche perché la schiena del papà Zanabil continua a dare fastidio Di notte però Bagida vede il fratello Consegnare dei documenti E questi personaggi appunto Restituigli dei soldi Quindi si sospettisce un po' Più dopo il fratello Asgat resterà Lì e saluta tutti Perché poi si deve reccare per studiare in città Mentre gli altri ovviamente si chiedono Come trovare i posti A Topolino L'idea di attaccare il suo GPS Per andare ad esaminare quelli che sono i territori Alle aquie Ovviamente l'unica che resta è Zayed Si pensa di farla drestrare Perché magari non conoscendo Topolino Si comporterà da aquie Non da viziata come con Asgat Topolino in qualche modo riesce a farla volare Quindi la nostra aquila riesce ad analizzare Finalmente Dopo avere un paio di tentativi a vuoto Riesce a trovare un luogo Dove i nostri possono stare Da questo punto di vista E quindi si vanno a montare le tende E stare Ovviamente Bagida racconta Della questione del fratello Asgat E Topolino decide di recarsi al villaggio Per indagare Quello che è successo Durante la notte Ovviamente arriva E il giorno dopo Incontra Asgat Ovviamente Gli parla appunto Di quello che è La questione Ipotizzano problematiche Comunque situazioni di pericolo Che però Il ragazzo Alla fine racconta E dice di aver Visto che si è preoccupato per il padre L'ha affittato una casa Poi alla fine Visto che il padre Voleva proseguire la sua vita Ha stracciato il contratto Che è stato restituito Alla caparra Rissolvendo il mistero C'è il chiarimento appunto Tra padre e figlio Ovviamente Intanto Si decide ovviamente Di liberare anche Zaid Perché è arrivato il giusto Momento Per andare a concludere Quella che è la sua vicenda Ovviamente Con il saluto Fra il protagonista E l'Aquia Si chiude la storia Una storia Che sinceramente Ho apprezzato Comunque Perché Ci fa vedere Ci ha fatto vedere Quello che è il mondo orientale A livello di narrativa Comunque si è eletta Anche abbastanza In maniera scorrevole Non ci sono grossi colpi di scene C'è stato questo tentativo Di instaurare un mistero Che poi un mistero Non era nulla di grave Per cui comunque Dai Sufficiente Secondo me Passiamo oltre ragazzi E passiamo Dopo pubblicità Sui mondiali A quello che è Il secondo episodio Della serie Del paper sera Appunto Blue Peaks Valley Un falegname Dopo l'avventura Con i vari Con i minatori Qua vediamo Che il paper sera È rinato Ovviamente dopo Che era stato distrutto Da estatista Ovviamente Nelle prime storie E qua c'è Quello che è Il racconto Di come il paperone Era stato aiutato Dagli abitanti Di Blue Peaks Valley Che avevano deciso Di ricostruire Appunto L'emporio E quindi del paper sera A parte Il figlio Del Appunto Del falegname Che Non apprezzava Pet Non apprezzava Quello che era Fatto Leopold Quella che era La vita di Leopold E quindi Decide di mollarlo E di andare A lavorare Presso un personaggio Un po' Particolare Rasty Boss Che gli offre Mille dollari Di benvenuto Ovviamente È evidente Che c'è qualcosa Di illegale Le vicende Vanno avanti Con Leopold Che lavora E vede comunque Il figlio Che si è Tresito bene Lui è contento Comunque Anche se è preoccupato Che lui abbia Guadagnato tutto Così in fretta Paperone Intanto Si confronta Con Leopold Dandogli Anche del lavoro Importante E chiaramente Vediamo Intanto Il figlio Pet Da A colloquio Da Rasty Boss Che devono fare Appunto Devono fare il pizzo Insomma Ai vari personaggi Quindi è evidente Che c'è qualcosa Problematico Giovane Però Rimane un po' Preoccupato Comunque Comincia Comincia ad essere A fare Conti Con la propria Coscienza Nel frattempo Il paper Sera Continua Ovviamente A scrivere E chiaramente Ci sono Altre avventure Durante La vicenda Intanto Leopold Continua A costruire Ovviamente Quello che è Il suo Impero Del legno Con altri Lavori Ovviamente Il nostro Pet Che si ritrova A Chiaramente A dover fare Un Qualcosa Di particolare Utilizzando Una partita Contrafatta Di tasselli Va Intanto Leopold Costruisce Proprio Con quei tasselli Alcune cose Ovviamente I nostri Si incontrano Padre e figlio E si viene appunto A scoprire Che La questione È dei tasselli Del Che Dei giunti Che aveva Acquistato Appunto Dal 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 Cliente Appunto Che Praticamente Dal Ferramenta Che Le aveva Ovviamente Avuto La partita Modificata Da parte Di Pet Chiaramente Il ragazzo Corre con Il padre Per aiutare Perché Poi Ha scoperto Comunque Sa Della vicenda Dei giunti Modificati Che Ovviamente La parafitta Crolla Sotterrando Il padre Che È Costretto Ovviamente A un riposo Delle cure Mediche Ovviamente Il nostro Johnny È a questo Punto Colpito E Affondato Anche Da Paperone Che Vorrebbe Il bene Del ragazzo Il ragazzo Decide A questo Punto Di Molare Il Curbo Vediamo Paperone Che pubblica Sul suo Parperseera La storia Appunto Di Leopold De Son Completa Su quel Che è Successo Si scopre Che alla Fine Pett Va Va A Denunciare Ovviamente Tutto Il traffico Di Rasti Boss Ovviamente Finisce In carcere Per due Mesi Per Comunque Per Buona Condotta E All'uscita C'è Appunto Lui Ritorna A Lavorare Con Il Padre Creando Leopold Denzon Che Diventa Una Delle Principali Aziende Di Falenia Meria Di Blue Peaks Valley Chiudendo Così La Storia Appunto Dei Paper Sera Questa Storia Devo Essere Sincero È Senta Un Poi Divertente Secondo Me Della Prima Quindi L'ho Apprezzata Bello Anche Vedere Come Paperone Anche Qua Sia Comunque Ben Voluto Come Personaggio E Comunque Abbia Aiutato Anche I Vari Personaggi Passiamo Quella Che La Storia Breve Per Poi Andare A Chiudere Ciccio E L'interpretazione Di Sogno Ciccio Che Racconta Paperino Di Quella Che È Il Suo Sogno Lui È Un Atleta Che Poi Lancia Tra Virgolette Rimbalza E Vince Fa Delle Gare Dove Addirittura Spreende Il Decollo Poi Tra virgolette Diventa Sempre Più Leggero E Chiaramente Lui Fa Gareggiare Addirittura Col Salto Con L'asta Fino A Finire Anche Nell'universo Ovviamente Dopo Essere Finito Nello Spazio Cosa Succede Si Sveglia E Quindi Tipo Paperino Gli Dice Che La Leggerezza È Qualcosa Che Lui Sta Aspirando Di Maniera Incredibile E Ovviamente Nel senso Quella Oppure Che è la metà Fala Della competizione La vita Quotidiana Pippo E scusate Ciccio Un po' Particolare Quindi Alla fine Rifiuta Incredibilmente La fetta Di torta E Ovviamente Nel senso Però Il giorno dopo Ha sognato E Il sogno Ha detto Che ha sbagliato Quindi Tornando Ovviamente A rimangiare Tutto Storia Che si Conclude Così Ovviamente Non poteva Che essere Altrimenti Era una storia Completiva Si legge Serenamente E ora Ragazzi Prima Ovviamente Di andare A commentare Su tutto Andiamo A vedere Giriamo Pagine Andiamo A vederci La storia Appunto Costruttori Spaziali Tratta Ovviamente Sempre fatta Da Artibani Con Sciarrone Che stavolta Tocca a lui A disegnare Che è ispirata A Bot Builder Ovviamente I costruttori Di nave Qua ci troviamo In questa Stazione Spaziale Dove C'è Un problema Perché Sta per arrivare Un asteroide Quindi Vengono tutti Invitati Gli abitanti A Prendere Le cose Principali Quindi Gli oggetti Personali Principati I nostri Cosa Decidono Prendere 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 I fiori O Delle Piante Quindi Vediamo Che La fine Vanno All'hangar Guidati Dalla Comandante Minima Peccato Che si Ritrovano Senza Più Navicelle Per scappare Perché Di fatto Ci hanno messo Troppo tempo Per cercare I fiori Quindi Decidono Di costruire Una nave Un'astronave Ovviamente Perché Sono tutti Ingegneri Incominciano Le peripezie Tra i robot Costruttori Pippo Come al solito Un po' Distratto Con Lo sparachiodi Che fa un po' Di disastri Paperino Che si ritrova A bisticciare Con i robot E quindi Classico La classica Confusione Con Pippo In qualche modo Che ripara A caso Ovviamente Mini Un po' Preoccupata Ma Topolino Assicura Che sono Molto bravi A costruire E Paperino Alla fine Che decide Di lavorare Senza robot Provano A partire Però Non funziona Tutto troppo bene Alla fine In qualche modo Cercano Di attivare Anche lo scudo Ma poi Si staccano Nei pezzi Insomma Vedono Che alla fine L'astronave Più o meno Ha la forma Sì Ovviamente Un po' Più Diroccata Da questo punto Di visto Dovrebbero Varare L'astronave Ma Non c'è Tempo Perché L'astronave Sta arrivando Ovviamente Riescono In qualche modo A vararla Poi però L'astroide In arrivo Prima Del previsto Quindi Grande fuga Verso Per accenere L'astroide Ovviamente L'astronave Parte Però Diciamo Che si spacca Poco dopo Ovviamente Come in Boat Builder Che si spaccava La nave Quindi Impattando La parte Che è rimasta Lì Contro L'astroide Che viene Incredibilmente Deviata Salvando Quella che è La stazione Spaziale Quindi Tutto è bene Quel che finisce Bene Con Minni Che addirittura Decide di affidare Il titolo Appunto Di Capi Giardinieri Perché Più che Costitutori Sono dei Giardinieri Ma Alla fine Ci sono Pappinino E Pippo Che Chiedo Di Dirige Il Cantiere Spaziale Ovviamente Storia Che Mi è piaciuta Particolarmente Bello Il Disegno Fantastico Storia Che Recupera Boat Builder Dove Anche Lì Facciano I Disasteri Nostri Per Costruire Chiedendo Quello Che È Le Ovviamente Prima Copertina Dell'estate Che Poi Andremo A Commentare Continuano Blue Peaks Valley Bene Ragazzi Per questo Video Direi che È Tutto E Noi Ci vediamo Ad un Prossimo Video Ciao